Il film poi si è giudicato il premio come miglior regia e miglior attrice protagonista per Ludovica Martino che qui ha fatto una bellissima interpretazione sotto tutti i punti di vista quindi io sono contentissima per Ludovica per questo premio spero che possa proseguire in questo trend positivissimo la sua carriera quindi le faccio anch'io i complimenti e ringrazio la giuria per aver dato il premio a lei facciamo scendere Ornella Morzilli della giuria a consegnare il premio complimenti per il film, per la regia e per l'ottima scelta di tutto il cast la trovo davvero davvero di altissimo livello attori veramente perfetti complimenti ok grazie quindi sempre a migliore attrice marianna grazie mille